Una bella vittoria, Biacenza vi ha rimontato per due volte però poi la Lube al quinto set è uscita molto bene Sì, oggi non contava fare tre punti, non contava vincere 3-0-3-1, oggi contava vincere e basta Ci è andata bene, è stata molto combattuta, nei due set che abbiamo perso con qualche errorino in meno Potevamo anche portarli a casa però va bene così, adesso ci riposiamo e vediamo chi arriva domani Come stai e quanto stai dando a questa squadra? Io quanto sto dando alla squadra? Non sta a me dirlo, io cerco di fare il mio meglio, poi quello che viene, viene Da fuori si vede tanta maggior solidità in difesa, in ricezione ma anche in attacco stai trovando ottime soluzioni? Sì, oggi un po' meno in attacco però dai, è importante cercare di dare una mano sempre in qualsiasi momento alla squadra, poi il resto non conta Quella battuta contestata, quell'essi di Piacenza nel quarto set per il 17 pari, forse in quale parziale vi ha un po' destabilizzato Ma non ci ha destabilizzati, non può un errore arbitrale destabilizzarci perché non è né il primo e non sarà neanche l'ultimo Quindi bisogna saperselo mettere via e andare avanti E' un po' meno.